massimo una settimana fa eravamo al mayor a presentare la bella iniziativa che poi è andata in scena domenica e ci dicevi vorrei vincere un derby prima di smettere l'hai vinto si vede che mi vogliono male i miei compagni tutto qua no sono contento sono contento che è venuta questa vittoria prima di tutto anche per per il periodo in cui stavamo passando e poi penso per tutto il popolo azzurro perché comunque era una vittoria che mancava da tanto tempo e magari anche tanti tifosi giovani non avevano ancora vista e quindi siamo contenti di tutto questo è stata anche una bella partita perché abbiamo sofferto inizialmente sembrava che la fiorentina potesse avere qualcosa in più invece poi piano piano siamo usciti portando a casa una vittoria meritata anche sul campo per quanto prodotto sì abbiamo avuto la fatica gli ultimi 15 20 minuti perché loro sono partiti forti noi si faceva un po più di fatica poi penso che è venuta fuori anche la nostra determinazione la voglia di fare risultato da squadra tutti uniti quello che comunque deve essere l'Empoli che magari c'è a sprazi ci è mancato per un periodo però io ero tranquillo e sereno che che prima o poi arrivava questo risultato della città a quattro giorni di distanza ancora fa festa ancora è lì che ci dimugina sopra come l'ha vissuta la squadra questa questa bella vittoria importante e particolare vittoria bene perché comunque alla fine come ho detto prima era un periodo così così quando non vengono le vittorie manca inizia magari a fare qualche allenamento con meno entusiasmo e tutto invece questa settimana è ritornato l'entusiasmo di sempre e secondo me anche meglio perché si gioca anche meglio a calcio così. Senti adesso si deve guardare ovviamente avanti si guarda al match di domenica con la Lazio e ci potrebbe essere un'altra sfida perché noi a Roma con la Lazio non abbiamo mai vinto. Bene come tutte le cose c'è sempre le prime volte e poi dobbiamo secondo me anche riscattare mi sembra di questo periodo l'anno scorso che abbiamo preso una bella batosta e ma sono convinto che che la squadra risponderà al meglio anche perché veramente come si diceva prima la squadra l'ho vista veramente bene libera questa settimana. C'è voglia quindi di giocare al meglio anche questa parte finale del campionato magari perché non superando i 42 punti dello scorso anno? Ma la voglia c'è c'è tanta anche perché in tanti ci siamo detti che comunque aver fatto un giro di andata come quello aver battuto tutti i record è un giro di ritorno che magari può essere negativo non va bene noi vogliamo concludere meglio la stagione cercare di essere di avere di andare dalla parte sinistra della classifica perché comunque sempre una cosa di gratitudine per una piccola squadra una piccola realtà arrivare a determinate posizioni e quindi il nostro obiettivo è quello. Ecco Massimo la sensazione però che la vittoria con la Fiorentina abbia di fatto chiuso a doppia mandata anche il discorso salvezza a questo punto io non so se 39 basteranno o no forse sì però la sensazione c'è che sia che sia fatta? Sicuramente basteranno io sono quasi convinto non c'è la certezza però sicuramente possiamo dire che siamo salvi però sempre si dice finché non c'è la matematica bisogna stare lì però noi siamo consapevoli di questo e cercheremo comunque sempre di di fare meglio queste ultime 6 partite perché come ho detto vogliamo arrivare più in alto possibile. Per chiudere torno velocemente sulla Lazio che gara ti aspetti domenica? Loro hanno cambiato adesso il tecnico? Ma è una gara difficile la Lazio composta di grandi giocatori di una rosa ampia quindi l'ultima partita hanno vinto la penultima in casa avevano perso il derby quindi speriamo che rimanga qualche brutto ricordo e noi dobbiamo sicuramente cercare di andare lì a fare la nostra partita come sempre.